Benvenuti a Casa La Sette, l'appuntamento giornaliero con la qualità e l'eccellenza italiana. Incontriamo adesso una realtà artigiana conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, l'arte orafa. Ma parlando di bellezza non possiamo non guardarci intorno e non scoprire che tutto quello che ci circonda ci trasmette delle emozioni, anche nelle cose più piccole, un gesto, un fiore, una parola e una lettura veramente interessante di tutto quello che ci circonda la troviamo nelle bellissime opere del maestro Antonio Nunziante, uno dei pittori italiani contemporanei più importanti e celebrati. E il nostro inviato di Casa La Sette, Gianni Bonadè, ha raggiunto il maestro Nunziante nel suo studio a Giaveno. Ciao Gianni, benvenuto maestro Nunziante. Grazie Cecilia. So che dopo New York il maestro sta preparando due straordinari eventi. Sì, è la mostra Lumen. Vi ricordate di chi è lo slogan Siamo con te perché siamo come te? Veneto Banca, bravi! Oggi voglio farvi vedere una storia fatta di immagini, musica e parole, con un percorso che parte dal 1877 fino ad arrivare ai nostri giorni, che vi mostra le capacità di una grande banca di seguire le esigenze di ogni singolo cliente. Guardiamolo insieme. Bene, abbiamo visto un percorso tra bellezza, classe e creatività italiana. Questa è Casa La Sette, un appuntamento giornaliero che entrerà nelle vostre case e vi mostrerà le capacità dei nostri imprenditori e dei consigli per gli acquisti più convenienti. Un caro saluto da Cecilia, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti!